Buongiorno, in questo sabbatale vi voglio raccontare qualcosa di incredibile, ma anche di vero, di molto incredibile, è anche molto vero, ma andiamo per gradi. Vi voglio portare a fare un viaggio meraviglioso. Per chilometri e chilometri di vie, perfettamente asfaltate, faremo rotta tra i tesori della nostra terra. Sarà un giorno storico. A bordo di uno yacht mastodontico, mai visto dalle nostre parti, potremo finalmente realizzare il nostro sogno più ambito. Una crociera, mari e monti, in barca, su gomma. Sarà un percorso mai percorso, ineguagliabile, indimenticabile. Una visita-escursione che diventerà un tributo alla città che rappresenta il fulcro del promontorio flegreo, dove ormai non sono più i reperti archeologici a stupire il mondo intero. Bensì le grandi opere, gli eventi, le iniziative, i provvedimenti strabilianti che a decine, passo dopo passo, ogni giorno vengono prodotte dal sindaco. Raduno e partenza, allora cominciamo il viaggio. Raduno e partenza dal grande porto turistico commerciale di Torregaveta, che collega il cumulo della tomba di Miseno, lo collega a Procida, a Ischia, a Capri, a Vendotene e a Ponza. Collocato il nostro grande yacht su un enorme tir con un ascensore interno che ci consentirà di salire a bordo. Partiamo. Giunti al mazzone, viveremo per mercato di sabato. Si chiama così mercato di sabato perché ai tempi degli antichi romani lì si svolgeva il mercato di Bagoli e lì si è continuato a tenerlo il mercato fino a quando è stato spostato al centro della città, che poi è il posto migliore per chiudere e bloccare ben tre strade tra le più importanti. Ma passiamo dal mazzone per giungere all'imbocco del viale olimpico. All'altezza Rouar e Mavolona eviteremo di percorrere l'autostrada. Raggiungeremo un miniscola invece attraversando il borgo storico di Cappella, l'ombelico dell'area Flegrea. Così amava chiamarlo il più amato sindaco di Monte di Procida. Quindi passeremo per il borgo storico di Cappella. Un borgo che è diviso tra due comuni, Bagoli e Monte di Procida e che a sua volta i ragazzi di una volta sollevano suddividere in due zone di influenza, quasi fossero due paesi diversi, Goppo Guasala e Abbasciavrecci. Da Miliscola, pochi minuti, e raggiungeremo il faro di Capomiseno. Qui, dall'Oiot, trasborderemo sulla funivia. La funivia, che è proveniente dal rione terra di Pozzuoli, e al rione terra di Pozzuoli arriva da Capo Posillipo la funivia, una grande funivia. Da Capo Posillipo al rione terra di Pozzuoli, dal rione terra di Pozzuoli al faro di Miseno. E da lì trasborderemo a bordo della funivia per raggiungere il carcere di Procida, che è capolinea. Lì poi dobbiamo scendere e ci dobbiamo fermare. Abbiamo detto in modo scherzoso alcune cose, che magari qualcuno potrebbe far credere pure per vere, perché se ne dicono tante di cose del genere e si fanno passare per vere. Come per esempio il porto di Torregale. Sentite come ci è stato presentata quest'altra novità impossibile, ma già quasi fatta. Te la fa vedere. Abbiamo una persona che ci fa vedere le cose che non esistono, le cose futuribili, le cose che si verificheranno, se si verificheranno, fra cinquanta anni o cento anni o forse chissà quando. Abbiamo, ecco qua, non sono io che parlo stavolta. Io la favola mia ve l'ho raccontata. Ora, questa è un'altra favola però reale. Abbiamo appena concluso un sopralluogo molto importante per definire l'area portuale di Torregale. Cioè là come il porto è già stato là. Ma voi avete mai visto il porto? Com'è? Stanno tutti i navi che attraccano, partono, arrivano, le sirene che suonano in continuazione all'arrivo e alla partenza, hanno gente con un pantuletto che saluta il navi che partono. Non l'avete mai visto a Torregale? Com'è? Andateci. Dobbiamo un sopralluogo per definire l'area portuale di Torregale. E' una giornata storica per collegare via mare il nostro pontile con Brocide e con le isole felegree. su un panorama mozzafiato. Ci stiamo lavorando con la Regione Campania, la Capitaneria di Porto, da Bagoli verso la Capitale Italiana della Cultura, da Montesanto, da Napoli, direttamente sulle isole, passando per il Capolinea della Cumana a Torregale. Dal treno alle vie del mare ce la stiamo mettendo tutta per rafforzare sempre di più i legami tra le terre e le meraviglie della città flegrea. insieme ce la facciamo. Un passo alla volta. Mo facciamo qualche parettesi. gente che arriva da Montesanto, e lo immaginate, un treno pieno, che viene a Torregale e riempie i draghetti o le navi, chissà quando dovranno essere grandi, per andare a Procide, a Ischia e dove volete voi. anche a Capri, e io dico pure a Ponza, ma a Bagoli, che ce ne vengono? mancano un biglietto di pulmanno, niente. Cioè gente scendono il treno e salgono il vaporetto e se ne vanno a Procide e a Ischia. e a Torregale che resta? Buttano il biglietto del treno per terra. Cioè che cos'è? A che cosa serve un servizio del genere? Perché chiedere un servizio del genere? Punto interrogativo. A prescindere da tutte queste cose c'è un fatto. a Torregale del pontile c'è, per fare una passeggiata ormai. Non è un pontile da attracco, non è un pontile da porto, è vietà, è inagibile. Mi meraviglio come fanno fare la passeggiata, perché forse a piedi noi non pesiamo niente. Se fosse un porto, la i camion, nemmeno le macchine lì ci possono andare. Allora, il pontile non è che è inagibile, si deve solo aggiustare un poco. È inagibile, non si può proprio fare, a prescindere da ogni cosa. Quel pontile, a quel pontile non può attraccare nessuna barca, perché il posto è bruttissimo. è aperto, è mare aperto, è esposto a tutti i venti. D'inverno quindi nessun servizio potrebbe essere mai possibile. Ed è stato constatato che lì non è possibile un servizio nemmeno d'estate. Perché il maestrale d'estate è perenne, è costante, è tutti i giorni. Ma non è una cosa nuova questa. Questa è una cosa che era stata tentata molti, molti, molti anni fa. Era stata tentata, diciamo, quasi all'inizio che era finita la stazione, che era finita il tratto Montesanto-Torregave con la ferrovia cubana. Ma non se ne fece niente. Dopo la realizzazione della strada ferrata, la stessa ferrovia stipulò un contratto con una società di navigazione per trasportare verso le isole viaggiatori e merci. Fu costruita una banchina a Torregaveta, che era molto più piccola dell'attuale pontile, dimensioni molto ridotte, sorsero però subito i primi inconvenienti. Ma io posso capire, stiamo parlando di cento anni fa, non stiamo parlando di oggi. A parte il fatto che anche allora sarebbe stato da sprovveduto, un isolano non avrebbe mai voluto attraccare lì, quando ha altre possibilità più sicure. Comunque, i primi inconvenienti quali sono stati? I fondali erano bassi. I natanti non potevano raggiungere nemmeno il molo, a prescindere dai venti. Dovevano ormeggiare a circa una cinquantina di braccia dalla costa. Così nacquero addirittura delle cooperative di Barcaioli. Questo lo prendo da un articoletto che è uscito e da persone che hanno compiuto i studi su questa vicenda. E sono cose storiche sapute, i nostri vecchi lo sanno tutti. Solo all'amministrazione a Bacoli non si sa. Delle cooperative di Barcaioli che al prezzo di 5 centesimi effettuavano il trasbordo tra un vaporetto che veniva dall'isola e il molo, chiamiamolo molo, il piccolo attracco di Torrecavedo. Ma col passare del tempo altri problemi venivano a galla. Per esempio, il porto, chiamiamolo porto, attracco, come lo vogliamo chiamare, come vi ho detto prima, è esposto, si sono accorti, era esposto al mare aperto, a venti occidentali di libeccio, di ponente e di maestralo. Lo sbarco, quindi, era subordinato alle condizioni favorevoli del mare, che non si verificavano quasi mai. Addirittura, e non la sapevo, l'ho letto in questo articolo, sul promontorio di Torrecavedo, che, ancora oggi detto coppo o pallone, fu realizzata una piccola stazione con un guardiano che, in caso di cattivo tempo, issava lungo il palo, lungo un palo, un pallone di giunghi, il vapore, il vaporetto proveniente dalle isole, quando vedeva il segnale, veniva quindi dirottato o a Baia o a Pozzuoli. Voi avete mai visto uno che a Barca si fa una camminata e parte da Torrecavedo? E non lo vedrete. Perché il mare lì, anche d'estate, è cattivo. Lasciamo perdere tutte le disgrazie che ci sono state per le correnti e tutto il resto. Magari non ha niente a che vedere. Però lì il mare è cattivo. Non consente attività di imbarco e di sbarco. Non consente perché è come se fosse un mare aperto. Non dovete considerare una rave, un montipolo c'è della carica, non ripara niente. E vi ho detto, anche d'estate è impraticabile. Questa cosa qua, a parte le cose vecchie di un centinaio d'anni o circa, anche recentemente se ne è parlato, il senatore Lauro da Ischia, l'armatore, aveva pensato di riprendere questa attività di collegamento tra Torrecavedo e l'isola. Procida Ischia. Ma ha dovuto desistere. Perché hanno studiato la situazione e hanno accertato che non è possibile che il mare non lo consente, le condizioni locali non lo consentono. soprattutto lo stesso molo, chiamiamolo così, lo stesso tratto di pontile che c'è oggi è molto pericolante. Le basi sono fratice, hanno aggiustato, prima era saltata addirittura un po' del banchettone, come si chiama, del suolo, del livello del suolo. L'hanno aggiustato, però poggia su basi non solide e il mare che in continuo, in continuo sempre continuamente erode quella struttura la rende sempre più inagibile. Quel pontile è inagibile da decenni, da molti decenni. Vi cito soltanto questa parte, questa notizia del 2016, stiamo parlando di cinque anni fa, quindi recentemente Laura aveva pensato a questa possibilità, perché qua ogni tanto si sveglia qualcuno e vuole fare l'inventore delle cose impossibili. Chissà quante pressioni avrà avuto per aprire questo approdo. Resta invece un sogno, eccolo qua un altro articolo di Cronaca Flegrea, Resta invece un sogno ancora lontano il trasporto marittimo che passi anche per il mollo di Torregaveta. L'armatore, Laura, non smendisce il proprio interesse per una futura area portuale lungo quest'ultima litoranea. Siamo interessati anche a Torregaveta, ha detto Laura. Purtroppo, al momento, il mare aperto e le carenze strutturali dell'area non ci permettono di parlare di un collegamento marittimo che includa anche questo porto. Questo è quando si cominciava a parlare, quando si parlava delle vie del mare a Torregaveta, facciamo, diciamo, pur allora avevano detto abbiamo fatto il porto a Torregaveta, partiranno le vie del mare a Torregaveta. non si può fare, lo sanno tutti, lo sanno tutti, però ancora oggi, ancora di questi giorni, ancora si fanno le riunioni e dopo le riunioni che la Regione dice sì, poi vediamo, che la Capitaneria di Porto dice io non tengo niente in contrario, però il porto, là ci vuole un porto, per fare un porto dove si può attraccare facilmente a Torregaveta, ci vogliono centinaia e centinaia di milioni, un porto lì costerà molto di più e ci vorranno molti più anni di quelli che sono serviti per farlo a Monte di Procida e a Monte di Procida ancora non è il non plus ultra, quindi abbiate pazienza. io non voglio essere pegato per fesso, però so vissimi potete pure pegliare per fesso, però non voglio che mi pegliano per fesso gli amici miei, perché io leggendo questa cosa del sindaco ho detto a un amico a Monte di Procida, a Basciomar, sai che ora si apre pure il porto a Torregaveta, i tantoni si stronzo, azi, come ti permette, ma come ti permette, ma là non si può attraccare né me né mai, io sono chiuso per amare tutta la vita, lo sanno tutti quanti, ma ovvero lo sanno tutti quanti, ho parlato con un ingegnere, ho parlato con quello che mi hanno detto tutto quanto, come stiamo là non attracca nessuno, come stiamo là non si può fare nessun servizio, né d'inverno né d'estate, e ho fatto la figura e ho fesso, io voglio che mi fai fesso, fammi fesso, ma non mi fai fai brutta figura con gli altri, soprattutto chi è Montese, chi lo sape tutto loro in Coppa di Porta, ho fatto la figura e ho fesso.